Parliamo adesso di nuoto, si avvicinano i mondiali di Barcellona, tra gli azzurri convocati ci sono Martina De Memme e Federico Turrini, entrambi plurimedagliati ai recenti giochi del Mediterraneo. Cristina Ippolito. Sentirla dire a parole è una cosa, però vederla scritta poi è tutta un'altra cosa, ti dà la certezza che ci sei a Barcellona. La convocazione ai mondiali di nuoto 2013 è stata un'emozione forte per Martina De Memme. Quattro medaglie d'oro ai giochi del Mediterraneo, nei 200, 400, 800 stile libero e nella staffetta 4x200, più un record personale, 1,59,65 sui 200 stile libero. Classe 1991, Martina, a Barcellona dal 28 luglio, si sta preparando a Roma, al centro sportivo dell'esercito, l'arma a cui appartiene. Quattro ori al collo facilitano gli allenamenti. Facilitano, assai facilitano l'allenamento. Convocato per l'appuntamento mondiale, anche Federico Turrini, 26 anni, specialità 200 e 400 misti, due medaglie d'oro e due d'argento ai giochi del Mediterraneo. Come Martina De Memme, Turrini è un atleta dell'esercito. Per me è sempre stato un onore vestire questi colori perché mi hanno dato la possibilità di fare lo sport a livello professionistico che diversamente in sport minori come il nuoto non è così facile. Comunque essere un atleta con le stellette ti comporta anche di dover sempre tenere un comportamento corretto e rispettoso di ogni persona, delle istituzioni, ma sono cose che si fanno con piacere anche a livello personale, di disciplina. Fa piacere seguire delle regole che magari altri non seguono e non hanno.